che significa fare oggi il pescatore e perché ancora senso allora la questione del fare il pescatore è una vita è una vita molto strana una vita senza orari senza tutto ma che ti porta a delle soddisfazioni personali meravigliose nel senso che sei sempre a contatto con la natura con l'ago ma il momento che torni a terra sei a contatto con la gente quindi la spiegazione di tutte le sensazioni della notte tante cose messe insieme che la gente resta sorpresa di tutte queste informazioni che vai a portarle però sono le sensazioni che tu senti quindi il racconto della pesca racconto della notte il vedere il pesce che tu hai pescato durante la notte la fatica che hai fatto perché la vita del pescatore è una vita un po girata al contrario nel senso che si lavora di notte però al momento che torni a casa che quindi durante il servizio del ristorante riesce a raccontare ciò che hai fatto e ciò che hai pescato penso che sia la cosa più bella che puoi fare quindi due soddisfazioni in un'unica altro si spera che venga avanti qualche altro giovane che abbia questa passione la speranza me lo auguro adesso grazie anche a gente di lago che sicuramente da questi spunti da queste informazioni alla gente sicuramente sarà trainante negli anni futuri